Cosa mi importa se il mondo Buongiorno signor Caruso Che tempaccio signorina mia ma tanto a me che Io sono protetto da quando lei mi ha dato la cintura gibo Direi che hai scelto bene allora Eccetto la cintura non è un indumento qualsiasi ma diciamo la verità diciamola Per avere giusto sostegno e giusto calore un uomo come me sceglie la gibo Oh ma la gibo non pensa solo all'uomo Ah no? Guardi qui per la donna per i neonati e tanti articoli per gli sportivi Dottor Gibo serietà sanitari